Romina Pover, il ricordo di quella prima volta. Un momento importante Romina Pover ha deciso di condividere con tutti i suoi fan un ricordo molto importante per lei, e ha voluto farlo sui social La Pover è sicuramente una cantante molto famosa e apprezzata in Italia e anche all'estero, che deve la sua fortuna anche per aver cantato in coppia con il suo ex marito Albano Un duo davvero iconico, che è rimasto immortale nel tempo, e che tutto il pubblico ha amato in passato, e apprezza tuttora e segue, anche nelle varie reunion Un bellissimo ricordo quello che Romina Pover ha voluto condividere con tutti i suoi fan, quando ha pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram un post davvero molto speciale La cantante infatti ha voluto condividere una foto ricordo che testimonia un momento molto importante per lei Cioè quando nel 1969 si trovava in sala d'incisione a Milano a lavorare su due pezzi molto importanti, acqua di mare e messaggio, il suo primissimo 45 giri Un'occasione davvero importante dunque per la Pover, che stava vivendo il suo sogno musicale Nell'immagine possiamo vedere una bellissima Romina, davvero molto giovane, e con il suo look iconico acqua e sapone Colpisce lo sguardo assorto nei pensieri, che sembrano rivelare i sogni nel cassetto e possibilità di un futuro roseo, che effettivamente la donna è riuscita ad avere e realizzare Bellissimo dunque il gesto di voler condividere un attimo così importante con il suo pubblico A cui in realtà, sembra tenere davvero moltissimo, e con cui spesso, e volentieri si lascia andare in considerazioni, e altre condivisioni importanti di ciò che è successo nella sua incredibile vita Asterisco Romina Pover, la foto scatena i ricordi. Quell'incontro emozionante Romina Pover è una delle artiste più popolari del mondo dello spettacolo. L'ex moglie di Albano, è solita pubblicare sui social foto dal passato La cantante ama rispolverare nei suoi cassetti degli scatti, inediti e regalare qualche chicca interessante ai propri follower che la seguono sempre con grande affetto Qualche tempo fa infatti ha pubblicato una foto in cui era con i capelli corti Un'immagine completamente inedita, visto che in tutti questi anni siamo sempre stati abituati a vedere l'ex moglie di Albano Carrisi con una folta chiama lunga Anche questa volta è andata a ripescare una foto di qualche tempo fa Precisamente mentre era sul palco di un concerto tenutosi a Cracovia, dove ha ricordato Papa Giovanni Paolo II con un'immagine di quando ha avuto il privilegio di incontrarlo Romina Pover, l'incontro con Papa Vojtila Nella foto pubblicata su Instagram, la cantante è sul palco a cantare. Ma a colpire di più è una foto alle sue spalle che la ritrae abbracciata a Papa Vojtila Ho ritrovato una foto in scena in Cracovia, parlando dei miei incontri con Papa Vojtila, scrive Romina nel post Uno degli incontri tra la cantante e Papa Vojtila c'è stato nel lontano 1996 in Brasile All'epoca la figlia Ilenia era già scomparsa da due anni, segnando profondamente la vita della povere di Albano L'evento è stato raccontato più volte da Romina. Tra le ultime volte durante l'intervista a Domenikain in cui ha rivelato quando avesse sognato di fare quell'incontro Il forte legame con la figura di Vojtila non è mai sceso, nonostante la conversione Romina infatti adesso è buddista. Ero alla ricerca di qualcosa che non avesse discrepanze, aveva raccontato Una fede che l'ha portata a donare la sua abitazione di Roma al centro buddista Una conversione iniziata dietro alla malattia della madre, che ha assistito fino agli ultimi giorni della sua vita Una scomparsa che l'ha segnata profondamente Grazie